Le primarie statunitensi si stanno per chiudere e d'ora in poi, salvo clamorose sorprese, la scena sarà solo per Hillary Clinton e Donald Trump. Per la candidata democratica si è pronunciato ufficialmente anche Obama. Credo non ci sia mai stato nessuno tanto qualificato per questo incarico, ha detto l'attuale presidente americano. Donald Trump continua a fare incetta di voti in attesa della convention repubblicana in Ohio, in programma dal 18 al 21 luglio. Prima però l'ecletico magnate americano si concederà un viaggio in Scozia per inaugurare un suo albergo, con tanto di campo da golf. Lo farà il 24 giugno, all'indomani del referendum inglese sulla Brexit. E allora abbiamo visto, ormai siamo alle battute finali per queste primarie negli Stati Uniti, avete visto anche il tema della Brexit, come entra nel dibattito. Allora lo commentiamo con Gian Piero Gramaglia, responsabile delle reazioni esterne dell'OIAI. Trump addirittura sarà in Scozia nel giorno del voto. Sì, inusuali queste ingerenze americane nel voto britannico. Ha cominciato il presidente Obama a dire la verità, arrivando a Londra il mese scorso e incitando gli britannici a restare nell'UE, anzi velatamente minacciandoli di non credere che se escono poi ritroveranno il loro rapporto privilegiato con la Gran Bretagna. Trump manda il messaggio opposto, dice chiaramente di là dall'Atlantico, andatevene, che cosa state a fare lì. E poi viene anche, si presenterà il 23, lui ha un'occasione per farlo, inaugura il suo hotel di lusso in Scozia. Anzi, non perdetevelo, 9.000 euro, una notte da sogno, un faro a 24 metri di altezza, vista sulla scogliera e potrete anche sentire Trump fare propaganda per la Brexit. Poi magari cercate di votare contro. Chiedete una stanza con un maxischermo per seguire ovviamente l'andamento del referendum. Lo spoglio dei risultati.